guardiamo questo becker è un becker d'acqua ma siamo sicuri che veramente acqua benvenuti in questo video oggi parleremo di che cosa sono queste palline andiamo a vedere come si fa per fare questo esperimento abbiamo bisogno delle orbitz sono praticamente delle palline che si acquistano in rete e servono per assorbire l'acqua e poi essere messa nei vasi in modo tale che le piante possano assorbire l'acqua in maniera lenta e graduata ok per cui noi ora cosa facciamo apriamo la bustina mettiamo tutte queste palline in grande becker e poi mettiamo una massa di acqua che superi questi 500 grammi ok prendendo un becker di questo tipo metteremo circa tra i 500 e 600 grammi di acqua così sono sicuro di aver superato i 500 grammi e piano piano le mie palline si andranno a idratare ecco come appaiono adesso diciamo a tempo zero e poi vedremo che cosa succederà dopo otto ore di idratazione eccoci qui sono passate circa otto ore in realtà ne sono passate dieci guardate qui le palline come si sono idratate sono diventate grandissime guardate qui guardate qui che belle vedete molto molto interessante e anche abbastanza scenico per ulteriori esperimenti e esercizi potete contattarmi all'email lacucinachimica chiocciola gmail.com e commentate numerosi grazie a tutti